Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata nel nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Siamo in ottobre, mese missionario per eccellenza e nel momento della veglia missionaria in Duomo presieduta dall'Arcivescovo che tornerà per l'occasione a Milano da Città del Vaticano dove è impegnato nei lavori sinodali sulla sinodalità. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana e ne parleremo anche in questa puntata. Ma non anticipiamo niente e presento subito il nostro primo ospite che è Don Alessandro Maggioni, benvenuto. Grazie. È sacerdote fidei donum, cioè quei sacerdoti ambrosiani ma non sono solo sacerdoti vi sono anche laici, religiosi, che vengono inviati in terra di missione appunto perché parliamo della missione. È in Camerun da tre anni, prete del 2001, giusto, mi sono preparata. Ecco, in Camerun vi è stata alla fine dello scorso anno, a cavallo diciamo, fra le feste natalizie e l'inizio del 2023, la visita anche dell'Arcivescovo e quindi vedremo delle immagini, sarà bello tornare a quel momento. Diciamo prima immediatamente dov'è il Camerun. Vediamo una cartina così, ecco. È una terra ovviamente africana. Lei in che zona è di questa nazione? Noi siamo nel nord del Camerun, nella diocesi di Garoua, non è proprio l'estremo nord ma siamo nella regione nord. confinate con la Nigeria, con il Chad, poi c'è la Repubblica Centraficana, tutti i paesi un po' segnati da disordini. Da disordini e da tanti problemi, ricordo il vile attentato che fu portato proprio in Repubblica Centraficana al nostro ambasciatore a Tanasio. Sono terre complesse, lo sappiamo, per molti motivi. Ecco, come definirebbe questi suoi tre anni di missione? Beh, sono sicuramente un dono che ho ricevuto perché di fatto mi è stato chiesto di vivere questa esperienza in missione e la vivo anzitutto come un'occasione, un'opportunità di condividere quello che qui ho ricevuto anche negli anni nell'esperienza un po' di ministero nelle parrocchie dove sono stato, a Galbiate e a Inzago e quindi dopo un po' di anni è stato bello poter cambiare. Ampriare anche gli orizzonti immagino. Certo e sicuramente si parte per andare a portare qualcosa ma soprattutto si parte per andare a condividere quindi c'è tanto da imparare ecco. E anche tanto da ricevere. Certamente, sì. Chiese giovani, molto giovani. Sì, la chiesa, la diocesi di Garoua non ha ancora 70 anni e dunque si può immaginare che c'è anche la realtà. La vivacità della realtà che si va facendo. È molto giovane. È vero che la chiesa è arrivata molto prima in Camerun al sud dove c'è una maggior tradizione ma al nord noi siamo in una regione prevalentemente musulmana e appunto dove la chiesa c'è da 70 anni e quindi è tutto giovane ci sono nella nostra... Un po' in divenire. Sì, 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 è tutto un cammino che però va avanti e quindi aumentano i preti, i locali, aumentano i cristiani. Quindi in quel senso lì dico, buon, per me è una fortuna camminare e fare un tratto di strada con una chiesa che sta crescendo. Certo. Se penso invece a quello che vivevo qui, ecco, quando la gente mi incontra che dice poverino, chissà che sacrifici, che fai... Sì, magari ci sono delle cose a cui si deve rinunciare ma ci sono anche tante soddisfazioni e quindi dico sempre i preti qui a Milano non fanno meno sacrifici, anzi per certi versi è più complicato. Una chiesa giovane, la stiamo vedendo, questi, lo capite, sono piccoli filmati un po' artigianali girati nella parrocchia, nelle sue zone, anzi la ringraziamo perché ce li ha forniti, ecco, in questa sua diocesi di Garuà e come si chiama la parrocchia in specifico? Allora, io ho fatto i primi due anni nella parrocchia di Ingalbige che si trova proprio, potremmo dire, in città, nella periferia della città e quindi una realtà un pochino più cittadina e adesso ho iniziato il servizio in un'altra parrocchia insieme a Don Paolo nella parrocchia di Ingalbige che si trova, scusate, di Gialingo che si trova diciamo più in campagna, più rurale, diciamo così. Ecco, l'arcivescovo, dicevamo, vi ha visitato, è suo uso visitare nei momenti magari in cui è più libero le nostre missioni, i nostri fideidonum, si potrebbe dire, se non vengono a Milano dall'arcivescovo è l'arcivescovo che li va a trovare, i nostri sacerdoti, i nostri laici, perché abbiamo anche dei laici che sono impegnati, delle famiglie che sono impegnate in questa missione, in terra di missione, scusate, così, il giro di parole, il gioco di parole. Ecco, quando è venuto l'arcivescovo lui ha parlato poi in un'intervista successiva, che lo dico, l'avevo realizzato io, di un'accoglienza straordinaria di cui forse vediamo delle immagini. Sì, sì, sicuramente è una caratteristica molto forte nella chiesa, ma direi nelle persone appunto del Camerun, questa predisposizione ad accogliere e a voler bene, a far festa, nel senso che ogni occasione è buona per condividere un po' di gioia, ecco, e certamente il nostro vescovo Mario ha percepito in maniera forte tutto questo. Sì, poi lui è, come dire, quando c'è una festa, ovviamente una festa che abbia dei contenuti, è sempre molto contento, davvero, era proprio qui ospite all'ultima puntata della scorsa stagione, abbiamo parlato del suo viaggio a Cuba per visitare sempre il Fidei Donum e anche lì aveva ricevuto un'accoglienza particolare e quindi ne ha parlato con grande entusiasmo. Abbiamo detto che siamo nel momento anche della giornata missionaria mondiale, che è certamente un richiamo in questi nostri tempi così dolorosi anche a un venirsi incontro tra chiese e sorelle, magari con qualche millennio di differenza, 70 anni la diocesi di Garua e magari qualcosa come 1600 la diocesi, che non era diocesi, diciamo la chiesa di Milano, venirsi incontro, dicevo, come chiese e sorelle, ma anche comprendere che ci può essere un dialogo nella pace. Io credo che oggigiorno la giornata missionaria possa voler dire anche questo. Lei ha detto che siete in un territorio musulmano, come è il rapporto? Allora, nella zona dove viviamo noi possiamo dire tranquillamente che la convivenza è pacifica, è una convivenza serena e normalissima. Ora io sono l'ultimo arrivato e non ho una grande esperienza, però per quello che ho visto in questi tre anni... Non ci sono tensioni. Assolutamente, dove siamo noi no, c'è proprio un convivere sereno, c'è una zona nell'estremo nord del Cameron dove è sbagliato dire la convivenza perché c'è il problema dei fondamentalisti di Boko Haram, ma come sempre non si può mischiare il fondamentalismo con un vivere la religione in una maniera... Sana e buona. Ricordo che il Papa ha ancora elevato la sua voce dicendo che non ci sono guerre in nome di Dio. E' questo. Direi che dice tutto. Dicevamo, giornata missionaria mondiale, ma ovviamente anche veglia missionaria in Duomo. Presieduta, l'ho già detto, dall'arcivescovo, nella quale verrà conferito il mandato, nello specifico a otto partenti. Vi saranno sacerdoti diocesani, religiosi, laici, anche una famiglia legata all'associazione laica del Pime, tre sacerdoti sono del Pime, un nostro fideidono andrà in Turchia, a assistere e sostenere il lavoro del vicario apostolico per l'Anatolia, Monsignor Bizetti e poi due religiose. Vediamo le immagini dell'anno scorso della veglia missionaria che per la prima volta l'anno scorso, ma si ripeterà quest'anno, è unita alla bella veglia del redizio simboli in cui circa 300 giovani ambrosiani consegneranno nelle mani dell'arcivescovo le loro regole di vita. Qui invece la consegna del mandato ai partenti, cioè il crocefisso, lo stesso crocefisso che forse lei porta al collo, che le fu conferito tre anni fa. Sì, sì, sì. Ecco, è un segno, lo capite. Ma è interessante anche che saranno 28 i sacerdoti e le religiose straniere che sono accolti per motivi diversi in diocesi di Milano. Questo segno, i partenti, ma ci sono anche, vorrei dire, coloro che arrivano? Sì, ci sono anche dal Camerun tra l'altro. Sì. E' un segno bello di, boh, mio papà potrebbe dire, ma come, vai te in Camerun e vengono i preti del Camerun qua, non potevi stare tu a casa tua e loro a casa loro, ma allora per... I nostri genitori ci vogliono sempre vicino, questa è la sostanza che sappiamo tutti. Però, ecco, io gli spiego che non è questione solo di bisogni, ma è proprio una questione di scambio, di collaborazione, quindi... Di formazione. Certo, noi abbiamo qualcosa da dare, ma anche da imparare, quindi si parte e allo stesso modo loro hanno qualcosa da dare e da imparare, quindi vengono e quindi... ma è la stessa cosa che il Vescovo ha richiamato molto nella sua visita, forse 35 anni fa, quando sono partiti i primi fideidonum, la collaborazione era più sbilanciata dalla nostra parte, sul dare, sul creare, costruire, ma adesso si sta imparando che c'è una collaborazione da entrambe le parti. Anche in questo senso la chiesa è chiesa sorella in qualsiasi parte del mondo, chiesa una, ma fatta di tante chiese locali. Allora, lei quando torna in terra di missione? All'inizio di novembre. Contento di tornare? Sì. Va bene, io ringrazio Don Alessandro Maggioni, sacerdote fideidonum in Camerun e noi adesso ci fermiamo per qualche momento, grazie davvero per essere stato con noi, ci fermiamo qualche momento, dicevo avremo un altro ospite, quindi restate con noi, parliamo di un altro tema, ma sempre con la vivacità che ci distingue come chiesa ambrosiana, le scuole sociopolitiche. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, adesso lo avevo annunciato poco fa, un altro ospite, sempre un sacerdote ambrosiano, don Nazario Costante, al quale do certamente il benvenuto, davvero. Grazie. responsabile del servizio per la pastorale sociale e il lavoro della diocesi, un ruolo importante in questo momento anche perché, lo capite tutti, è questione ovvia che la costruzione di una società in cui, come dice spesso l'arcivescovo, sia più desiderabile vivere, di una vita buona, riguarda tutti. e nella proposta pastorale per l'anno 2023-2024, che continuiamo ad approfondire, si parla proprio delle scuole sociopolitiche. Le scuole sociopolitiche sono una realtà gloriosa, vorrei dire, della nostra diocesi e l'arcivescovo dice che sono anche questione di responsabilità, portarli avanti, renderle sempre più attraenti e che servano a formare persone che hanno voglia di giocarsi in prima persona nella responsabilità sociopolitica o anche semplicemente per dire che bisogna andare a votare, che bisogna far parte di questa società. Ecco, allora, diciamo immediatamente, cosa sono le scuole sociopolitiche, quando iniziano? Bene, innanzitutto un saluto a tutti quanti voi, grazie per questo invito. Allora, le scuole sono molto importanti nella storia della Chiesa e da sempre il bisogno è stato quello di vivere la fede nei territori, nella realtà. Ecco, la fede è una fede incarnata e l'opera di evangelizzazione della Chiesa mira appunto a formare non solo mediante la catechesi, ma soprattutto la coscienza dei credenti. E in questo senso, ecco, la scuola sociopolitica vuole formare i cristiani perché possano operare ed essere sale e luce nei territori e portando così la luce del Vangelo lì dove vivono. L'idea di queste scuole è una scuola antichissima appunto come si diceva nella tradizione ambrosiana. Ricordiamo tutti il Cardinal Martini che ha voluto fortemente queste scuole sociopolitiche negli anni Ottanta. E nella memoria di tanti fedeli c'è appunto il convegno Farsi prossimo, in cui la contemplazione della vita era una contemplazione che portava all'azione. Ecco, la vita va vissuta e va abbracciata nella sua carità andando alla politica. Ecco, si andava oltre alla povertà per abbracciare tutto il sistema politica, l'impegnarsi nell'azione sociale. Ecco, quindi queste scuole sono cresciute nel tempo, sono cresciute nelle modalità, nelle nuove sfide, ma l'idea è appunto quello di chi partecipa e partire da sé, dalla propria conversione personale perché quell'io diventi un noi e quindi una conversione comunitaria. Naturalmente oltretutto quel convegno storico ormai importantissimo, Farsi prossimo, ha ridisegnato il volto del caritativo in diocesi di Milano. Carita Sanbrosiana, come la conosciamo ora, nasce nel convegno Farsi prossimo e dalla lettera pastorale omonima del Cardinale Martini. A luglio 2024, dal passato al futuro, si svolgerà la cinquantesima settimana sociale dei cattolici italiani a Trieste, una città magari che qualcuno non si aspettava, dedicata alla democrazia e questo si lega, lo vediamo al cuore della democrazia, ringrazio la regia che sta facendo vedere la copertina del documento preparatorio, si svolgerà dal 3 al 7 luglio. Anche il primo incontro dell'anno pastorale 2023-2024 delle scuole sociopolitiche ambrosiane avrà a tema questa stessa intitolazione. Ecco, perché? Il percorso sociopolitico che abbiamo pensato quest'anno è proprio in comunione con la conferenza episcopale italiana che si prepara alle settimane sociali a Trieste. Trieste è il luogo di confine, la vera sfida oggi è abitare le periferie, abitare i confini, i confini che sono sempre più oggetto di dibattito. Ecco, la nostra democrazia chiede partecipazione al cuore della democrazia. Oggi la narrativa sulla società è sempre a volte a sottolineare la paura, la frammentarietà, la divisione e invece è importante fare un passaggio in più nella nostra società. Sembra più noi parliamo di una società senza bambini nelle culle, una società senza medici, una società del senza. Invece questa è un'opportunità per mettere insieme le energie del nostro paese che possano raccontare la bella partecipazione e trovare ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Come già diceva Giovanni Paolo, come diceva Giovanni XXIII nella pace Minterris. Ecco, e costruire proprio percorsi di amicizia sociale, parlare di speranza anziché solo di paura e impegnarsi personalmente e comunitariamente rispetto all'individualismo. Ecco, il percorso di una scuola sociopolitica in vista della democrazia vuole essere questo. Al cuore della democrazia, lo ricordo infatti, il titolo anche dell'incontro sociopolitico del 28 ottobre che si svolgerà presso la sede di Caritas Ambrosiana, quindi in via San Bernardino al 4 a Milano. Più voci parteciperanno, aprirà Monsignor Luca Bressan che è stato ospite settimana scorsa, che è avvicario episcopale, lo sapete. Ma poi anche Bruno Bignami che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi sociali del lavoro della CEI, poi docenti universitari e lei modereva giustamente come ben si conviene. È aperto a chi questo convegno? È aperto a tutti, a tutti coloro che sono interessati al bene comune. E poi ci saranno anche tutti i delegati delle settimane sociali delle diocesi lombarde, perché nel pomeriggio avremo la prima tappa dei laboratori dei delegati. Sono già stati scelti i temi su cui si rifletterà nel 2023-2024 nelle scuole? Mi piace dire che il filo rosso che unirà i diversi incontri è la partecipazione. Bello l'articolo 1 della nostra Costituzione che dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma il lavoro è in senso ampio, è proprio l'azione feriale di ogni cittadino. Anche in questo momento noi stiamo contribuendo alla democrazia, perché stiamo lavorando per il bene comune. E allora fa riscoprire ad ogni persona la possibilità, mediante le sue azioni anche semplici, anche ordinarie, feriali, che in quel momento partecipa alla democrazia. Bellissimo l'articolo 4 della nostra Costituzione, quando dice che ciascun cittadino, ciascuna persona può partecipare e può prendere parte, usa questa bellissima espressione, al progresso materiale e spirituale della società. E come lo si fa? Mediante le formazioni, mediante la partecipazione economica, sociale e politica. E allora svilupperemo questo tema all'interno di un percorso che ha a che fare con la sanità, la cura del territorio, con la comunicazione. Quindi lo affronteremo poi nei diversi risvolti della nostra vita quotidiana. Tra l'altro questo, delle scuole sociopolitiche, permette anche, al di là della formazione, che è aspetto fondamentale, si comprende, ma di guardare anche oltre, perché molti degli incontri che si sviluppano nelle zone pastorali, con gli amministratori locali, parliamo di sindaci, parliamo di presidenti di province, e l'arcivescovo, nascono magari da un impegno giovanile di questi stessi amministratori nelle scuole sociopolitiche, oppure ora che sono impegnati nella cosa pubblica, nel continuare a formare altri. Stiamo vedendo proprio l'incontro con gli amministratori locali, qui siamo in zona pastorale quinta, siamo a Monza, e è un incontro sempre molto vissuto, molto ricco, che dà un controcretezza anche alle scuole. Ecco, la democrazia è un atto cooperativo, in cui le diverse realtà agiscono in concerto, agiscono insieme. Pensiamo anche ai nostri ragazzi negli oratori, il loro servizio durante l'oratorio estivo, il mettersi a disposizione in un'accoglienza di minori. Ecco, è un servizio alla democrazia, perché è il bene di tutti, e diventa quella sul territorio una vera scuola di cittadinanza attiva. Ecco, si parla sempre di cittadinanza attiva, però forse pochi sanno che la cittadinanza attiva non è sedere in Parlamento anche, ma è quello che facciamo tutti i giorni come cittadini. Eppure preoccupa il disinteresse che vi ha adesso per l'impegno nella costruzione della società civile. è innegabile che vi siano numeri allarmanti, di poco interesse, si disertano le urne elettorali. Come incentivare l'impegno giovanile? Ecco, è bello questo, percepire la democrazia non solo nel suo momento di decisione, ma la democrazia come attività quotidiana. E' bella la domanda, giovani e partecipazione, è una domanda aperta, di difficile soluzione. Ecco, diversi sono i fattori, il disinteresse generale per il voto, per la politica, un problema a volte di appartenenza, le forme di comunicazione che sono cambiate. Ecco, noi come comunità cristiana, quando ci poniamo questa domanda, i giovani e la politica, come potremmo rispondere? Certamente ritrovando il risvolto sociale della fede. La Bibbia parla sempre di un popolo, di una comunità, la fede è relazione, è un fatto sociale. Ecco, dall'altro lato, come sottolinea il nostro arcivesco, nella sua proposta pastorale, il clima è quello di una cultura dell'individualismo. E questo porta molti giovani, ma non solo i giovani, anche gli adulti, a pensare che non abbiamo bisogno dell'altro per poter crescere. Mi salvo da solo. E a volte la società, e quindi anche la mediazione, le istituzioni, vengono viste come un di più, un non necessario. Ecco, anche la fede, a volte, come la viviamo, ha questo rischio, di chiudersi in una bolla. Vivo la fede negli oratori, ma non la vivo per strada all'università. Ecco, la carità, la carità è appunto questo, è abbracciare la povertà, è trovare le radici e rimuovere le cause. E abbracciare il povero, come ci insegna Papa Francesco in Fratelli Tutti, in cui prende il buon sammaritano, non è solo aiutarlo in quel momento, ma essere il locandiere che si occupa del futuro. E credo che appunto la sfida è sentirci tutti quanti noi locandieri per curare le ferite del territorio, le ferite dell'umanità. Non a caso lo dice proprio nella recentissima sua esortazione, la Vatedeum. Ecco, urge una risposta, e appunto l'esortazione di Papa Francesco dice non abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di più. Perché tutto si collega, tutto si tiene, lo abbiamo detto la settimana scorsa, lo ha illustrato molto bene, da par suo, Monsignor Luca Bressan. Mi piace citare in conclusione di questo suo intervento, di cui la ringrazio, questa frase del documento preparatorio delle settimane sociali dei cattolici italiani di Trieste. Lo trovate già disponibile sul portale delle settimane sociali. Prima ancora di essere una forma di governo, la democrazia è la forma di un desiderio profondamente umano. Lo avete scritto anche nella locandina del vostro convegno importante che ricordo di sabato 28 ottobre, è un desiderio umano. Bisogna far crescere questo desiderio umano, bisogna renderlo sempre più concreto. Questa potrebbe essere la sintesi delle sociopolitiche. Certo, risponde a una domanda innanzitutto che è personale, ad un bisogno dell'uomo, di crescita, va e anche tu fa lo stesso, è proprio l'esortazione più bella che ciascun cristiano accoglie. Bene, io ringrazio Don Azzaro Costante per questa sua incisiva, vorrei chiamarla così, definizione di cosa siano, da dove vengano, dove si vada, con le scuole sociopolitiche. Chiedo però se può rimanere con noi nella terza parte, perché abbiamo un diario da Città del Vaticano, di qualcuno che conosciamo bene. Seconda puntata, rimanete con noi, a tra pochissimo. Ben ritrovati ancora nei nostri studi, da cui usciamo subito virtualmente per andare in Piazza San Pietro. L'Arcivescovo ci racconta nel suo secondo diario come si stanno muovendo i lavori del sinodo, a partire però da un pensiero per Milano e per la Chiesa Ambrosiana che ci inorgoglisce. Non possiamo che dire così. Vediamo. Condivido volentieri il fatto che molti vescovi qui presenti conoscono Milano e non pochi di loro sono stati nella nostra diocesi a esercitare il ministero o a trovare comunità e quindi molti hanno questa grande riconoscenza e ammirazione per la nostra Chiesa. Mi vengono a dire i nomi dei preti che hanno conosciuto, delle parrocchie che hanno prestato servizio durante l'estate o nel tempo di Natale. Ecco, grande riconoscenza per le esperienze fatte a Milano. E poi anche mi avvicinano i patriarchi delle Chiese d'Oriente che sono preoccupati per questa grande emigrazione che impoverisce le loro comunità e che rende molta gente nella condizione del migrante e quindi in una condizione precaria, inquieta e talvolta anche a rischio di smarrire dal proprio patrimonio di fede. Ecco, i patriarchi delle Chiese Cattoliche d'Oriente mi ringraziano perché a Milano, in tanti luoghi, hanno ricevuto accoglienza. Abbiamo dato delle Chiese, degli ambienti in cui possono pregare, possono fare catechismo ai loro ragazzi, possono celebrare le grandi feste della loro tradizione. Quindi questo è il primo pensiero che voglio condividere, questa gratitudine verso la nostra Diocesi che nell'Aula Sinodale mi è stata fatta presente. In questo periodo stiamo facendo quel lavoro di condivisione ai circoli minori e anche di messa in comune nelle congregazioni generali alle quali assiste spesso Papa Francesco. Questo esercizio di ascolto è molto interessante ma anche piuttosto faticoso perché i tavoli, i circoli minori sono 36 e quindi in Aula vengono fatte relazioni di tre minuti per ognuno di questi circoli minori e poi ci sono gli interventi liberi che commentano, integrano o portano correzioni a quanto è stato detto nei circoli minori. Quindi un grande esercizio di ascolto che è anche una grande fatica in certi momenti. Allora mi sono chiesto cosa posso imparare da questa fatica e quello che mi sembra di poter condividere con voi è che si devono avere delle condizioni per ascoltare ascoltare molti ascoltare a lungo naturalmente è faticoso però ecco mi chiedo quali condizioni spirituali consentono di ascoltare e prima di tutto è quello che chiamerei l'aspettarsi qualcosa cioè se quando uno comincia a parlare io sono interessato perché mi aspetto un contributo interessante una notizia che non so una esperienza di vita vissuta ecco allora anche l'ascolto è una disposizione favorevole se io ho stima di chi parla e so che ha una riflessione originale un contributo particolare da offrire io ascolto se riconosco di essere ignorante e di aver bisogno del contributo di tutti per conoscere la situazione di un paese di una chiesa allora ascolto ecco ci vogliono delle condizioni spirituali se non mi aspetto niente se non ho stima di cui della persona che parla se presumo già di sapere tutto ecco non ascolto per niente e l'ascolto diventa solo una fatica questa settimana questi giorni sono tempi di un grande ascolto e anche di un grande esercizio su come si può ascoltare con frutto e poi noi viviamo dentro l'aula del sinodo naturalmente dentro il Vaticano però non è un mondo che si isola e quindi potete immaginare come in questi giorni siano entrati nell'aula sinodale gli strazi, le lacrime gli interrogativi per tante guerre e per questa situazione della Terra Santa e quindi anche noi in certo qual modo siamo un po' partecipi in modo speciale perché qui poi ci sono persone che vengono dall'Ucraina dalla Siria dal Libano da tanti paesi tribolati da tante situazioni di guerra o di terremoti o di povertà e nel sinodo ecco si lavora sul tema della sinodalità però insieme anche si prega si raccomanda il momento di digiuno come quello che abbiamo vissuto ieri su proposta della conferenza episcopale italiana e oggi ho sentito che Papa Francesco ha proposto ancora un momento di preghiera e di digiuno per la settimana prossima ecco quindi e qui si vive insieme con il mondo si raccolgono i drammi del mondo e qui si vede anche una chiesa talvolta le voci che si alzano in assemblea sono più che riflessioni sulla sinodalità testimonianze di come vivono alcune comunità in situazioni di povertà in situazioni di persecuzione in situazioni di povertà di mezzi e di numeri così insignificanti di cristiani cattolici e di distanze così scoraggianti che solo la potenza di Dio può far sentire che c'è una chiesa viva c'è una chiesa giovane c'è una chiesa che vuole annunciare una buona notizia a tutta l'umanità ecco per questo vorrei raccomandare anche a voi che ascoltate di custodire la memoria di queste situazioni di non rinunciare a una preghiera a un gesto di penitenza a un percorso costruttivo per seminare pace nella nostra terra sperando che fiorisca per tutta la terra ecco questo era il secondo diario del sinodo dell'arcivesco uno stralcio molto ampio l'integralità però di questo diario potete trovarla sul canale youtube della diocesi di Milano che cosa l'ha colpita di più donna Zario vedevo che prendeva appunti sì ecco è bello parlare di ascolto perché l'ascolto dice l'abbraccio l'abbraccio della chiesa è proprio lo scenario in cui veniva fatta l'intervista ci dice il colonnato di San Pietro che abbraccia proprio l'idea di una chiesa che abbraccia tutti e in questo momento la chiesa abbraccia i segni dei tempi per capire lo spirito santo dove soffia e questo ci fa crescere in una consapevolezza delle nostre responsabilità perché ascoltare e prendersi cura di se stessi e degli altri e diventare così come dice spesso Papa Francesco protagonisti di un vero cambiamento certamente allora siamo a conclusione di questa nostra puntata io vi voglio ricordare che la giornata a cui faceva riferimento l'arcivescovo che il Papa in cui il Papa chiede di pregare per la pace gesti di digiuno di astinenza è per il 27 di ottobre e vi ricordo anche sabato 21 ottobre in Duomo la veglia missionaria come si è detto e la reddizio simboli che saranno trasmesse in diretta su www.chiesadimilano.it e sempre su youtube della diocesi di Milano vi sarà anche un gesto molto bello oltre che con il conferimento del mandato e la consegna della regola di vita da parte dei giovani perché alla conclusione della veglia verranno distribuiti 3000 panini ai fedeli grazie a pane in piazza con le missioni estere cappuccine e si sarà invitati in questa veglia cuori ardenti piedi in cammino e il giorno successivo a spezzare questo pane con amici e parenti e tante altre persone adesso è davvero tutto l'unica cosa che ancora vorrei richiamare è la app di Telenova da lunedì prossimo oltre che la chiesa nella città questo è il nostro magazine sarà anche disponibile sulla app di Telenova la chiesa nella città oggi lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì questi giorni della messa in onda come sapete dopo il telegiornale a me non rimane che ringraziare donna Zara Costante responsabile del servizio per la pastorale sociale del lavoro della nostra diocesi lo vedete preti giovani che hanno un grande entusiasme di questo siamo contenti e darvi appuntamento a settimana prossima come sempre giovedì parleremo del sinodo ma anche con tante voci ambrosiane non solo quella dell'arcivescovo quindi restate con noi come dico sempre arrivederci ciao grazie a tutti